Obama! Così come nel 2008, in occasione dell'elezione, la visita in Kenya del presidente americano Barack Obama è motivo di gioia e festa. In preda ad una eccitazione collettiva, i kenyoti l'attendono come nuovo messia. L'agenda del presidente resta più o meno segreta, ma nel villaggio dei suoi antenati, Cogelo, sanno già che il presidente non andrà. È difficile nascondere la delusione. Obama qui è il figlio, il fratello di tutti, e incarna la speranza. Sono molto deluso. Vogliamo che il nostro ragazzo venga a vederci, venga a visitare la nonna. Saremmo veramente più felici al mondo. È qui che è stato sepolto il padre di Obama. Economista lasciò la famiglia quando l'attuale presidente americano aveva due anni. Obama ha appena un vago ricordo del padre che morì a 46 anni in un incidente stradale nel 1982. Obama ha visitato altre quattro volte il Kenya, l'ultima dopo la sua elezione a senatore dell'Illinois nel 2006. Alcuni suoi parenti vivono ancora qui, tra gli altri anche Sarah Obama, 94 anni, la nonna di Barack. Anche lei non nasconde la sua delusione, ma capisce che Barry, così chiama il nipote, non può renderli visita, visti gli impegni ufficiali che ha. Nell'eccitazione generale dell'elezione del primo presidente americano di origine kenyota nel 2008, nel villaggio di Cogelo, venne portata acqua corrente ed elettricità. Gli abitanti però si attendevano di più. Siamo dispiaciuti. Quando divenne presidente pensavamo che ne avremmo avuto qualche vantaggio. Non abbiamo visto niente. Aspettiamo comunque che si attuino programmi di scambi scolastici tra le nostre e le scuole americane. In molti a Cogelo sperano ancora in una visita del presidente. L'Africa resta la terra delle possibilità e l'imprevedibile è sempre all'ordine del giorno.